In casa Alfa si fanno le cose in grande con una programmazione sempre oculata e proiettata al domani, specie con il modello B-SUV, che sta per essere lanciato verso una platea in grande a, ci siamo ormai, in casa Alfa Romeo per l'arrivo di B-SUV, il gioiello della storica azienda produttrice che, stando a quanto emerge, non sarà solo fantastico, ma anche conveniente. Si sta parlando, in modo particolare, del prezzo attorno al quale si assesterà il nuovo modello di casa Alfa, ma prima ancora di parlare di questo, che cosa si può dire per ciò che concerne i dettagli di tipo tecnico? Quando uno storico gruppo produttivo decide di rilanciare il proprio nome con un modello B-SUV, ma prima ancora di parlare di questo, che cosa si può dire per ciò che concerne i dettagli di tipo tecnico? Ma prima ancora di parlare di questo, che cosa si può dire per ciò che concerne i dettagli di tipo tecnico? Quando uno storico gruppo produttivo decide di rilanciare il proprio nome con un modello B-SUV, ma prima ancora di parlare di questo, che cosa si può dire per ciò che concerne i dettagli di tipo tecnico? Chi si dice ben informato al riguardo, racconta che la nuova Alfa Romeo B-SUV sarà una macchina fantastica, spettacolare e che sarà super anche il rapporto tra qualità e prezzo. Scopriamolo, rumors, indiscrezioni, conferme. Il nuovo Alfa Romeo B-SUV nell'anno appena iniziato sarà senza dubbio, per molti, il mezzo tramite cui l'azienda si rilancia. Rumors, indiscrezioni. Il modello dovrebbe essere rivelato nel 2024, e a quanto pare si proporrà come un veicolo col chiaro timbro Alfa, ma con una competitività commerciale e di mercato ancora, come dobbiamo aspettarcelo? Dunque, questo nuovo B-SUV di Alfa Romeo 2023. Quello che si sa che farà parte di un super ambizioso piano, quello di lanciare sul mercato un come dobbiamo aspettarcelo. Dunque, questo nuovo B-SUV di Alfa Romeo 2023, una natura, anche, elettrificata, una inversione di tendenza sul profilo economico, intesa come prezzo di listino, senza svilire la qualità essenziale in crescita del modello.